Buongiorno a tutti e benvenuti all'edizione del Tg Conf Commercio Notizie. Il nostro Tg parte proprio da qui via Torino e arriverà in piazza Pluv, le due location del mercato europeo. Per la prima volta infatti a Osta ospiterà il mercato europeo del commercio ambulante, Save the Date, sarà dal 30 settembre al 2 ottobre, dalle ore 9 alle ore 24, piazza Pluv e via Torino appunto. Il mercato europeo è un vero e proprio evento con una grande valenza non solo economica ma anche culturale e turistica. Rappresenta un'opportunità internazionale ma anche un modo per diffondere la conoscenza del nostro territorio, i nostri prodotti enogastronomici e le nostre tradizioni. Il mercato europeo è una manifestazione organizzata da mercati europei FIVA Conf Commercio, Conf Commercio Valle d'Aosta in collaborazione con la Chambre Val d'Atene, il sostegno di CWA Energy e il patrocinio del comune di Aosta, Save the Date. 30 settembre arriva ad Aosta la prima edizione del mercato europeo. Gusti, sapori, colori e culture provenienti da ogni parte del mondo si incontrano per tre giorni per creare un'atmosfera unica, buon cibo, artigianato e oggettistica ai mercati europei. Trovate di tutto e l'ingresso è gratuito. Ricordatevi la location Piazza Pluv e via Torino. L'orario del mercato europeo di Aosta sarà dalle ore 9 alle ore 24. Per scoprire maggiori informazioni relative al primo mercato europeo di Aosta visitate la pagina del nostro sito www.asconvda.it. L'inaugurazione si terrà presso lo stand Conf Commercio in data 30 settembre alle ore 12. Lo stand di Conf Commercio, e vi aspettiamo numerosi, anche solo per un saluto e per avere le vostre considerazioni che per noi sono importanti e ci stanno a cuore, si trova in Piazza Pluv, a ridosso delle mura di Porta Pretoria. Vi aspettiamo, mercato europeo, prima volta ad Aosta! E per rimanere in tema di alimenti e bevande e somministrazione, concludiamo il nostro Tg con un'informazione di servizio legata alla formazione. Rimangono aperte fino a domani le iscrizioni al corso Sub Ex Rec. Ultimi posti disponibili. Avvio del corso, 19 settembre. Termine del corso, 6 dicembre. Modalità, 38 ore in videoconferenza, 82 ore in aula. Totali, 120 ore di formazione, tutte dedicate a te. Cosa aspetti ad iscriverti? Mancano davvero pochissimi giorni per poter realizzare il tuo sogno imprenditoriale. Grazie al voucher regionale puoi abbattere il costo del corso fino all'80%. contattaci 351 979 0635. Grazie a tutti per l'attenzione accordata al nostro Tg, vi aspettiamo al mercato europeo, 30 settembre, 1, 2 ottobre. Save the date, alla prossima edizione!